ciao benvenuto sul mio canale io sono valentino vitali sono un batterista di milano questo è il mio studio ed è qui che ho registrato il brano che stai per ascoltare ho deciso di registrare una serie di cover di brani che mi hanno particolarmente influenzato e questa serie è dedicata ai brani che vengono dal mondo della fusion apro questa serie con il brano di greg howe un chitarrista famosissimo che ha fatto scuola per tanti anni ha suonato come turnista con un sacco di musicisti importantissimi tra cui michael jackson justin timberlake ma anche una carriera solistica estesa ha suonato con giganti del mondo della batteria come dennis chambers per esempio con cui ha fatto un album nel 2003 intitolato extraction con anche victor buten al basso che ti consiglio di ascoltare nello specifico però questo brano viene dal suo ultimo lavoro da solista del 2017 chiamato wheelhouse se ti piace questa serie di video in qualche modo ti aiutano a scoprire artisti che magari non conoscevi a trovare ispirazione oppure perché no a trovare ispirazione in alcune idee che metto nell'interpretazione di questi brani lascia un like iscriviti al mio canale attiva la campanellina così non ti perderai tutti i video delle prossime settimane buon ascolto e a presto 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 a presto